Omicidi, estorsioni, droga e corruzione. È una mafia feroce. Una vera e propria esecuzione in stile mafioso. Colpi da per tutto, corti per te a sangue. La mafia foggiana ha una storia lunga mezzo secolo, ignorata e sottovalutata. C'è un elenco lunghissimo di sangue. Oggi però, Foggia e la sua mafia sono uscite dal silenzio, perché l'allarme sicurezza non è mai stato così alto. Cunnello Trocchia, 9 racconta a Puglia sotto attacco. Sabato alle 21.25, sul 9.